A partire dal lunedì prossimo avrà inizio la seconda fase dei lavori di manutenzione mirate al ripristino delle superfici in calcestruzzo sul via Dottore della strada statale 115 sud-occidentale Sicula a Porto Empedocle. A renderlo noto l'ANAS, che sottolinea come l'intervento non comporterà la chiusura della statale 115 ma della sottostante statale 115 terre di Porto Empedocle, con deviazioni segnalate sul posto. Stando a quando comunicato dall'ANAS, il via Dottore sarebbe già stato interessato in passato da alcuni interventi manutentivi di risanamento su un'ampia porzione dell'impalcato. Da lunedì e fino al 21 dicembre, dunque, i lavori di ripristino riguarderanno la restante porzione dell'impalcato sovrastante alla statale 115 terre. Il viadotto sovrastante del torrente Re, insieme ai viadotti dei torrenti Spinola e Salsetto, era già stato attenzionato nei mesi scorsi all'ANAS, al prefetto di Agrigento dall'associazione Amare Amico, che aveva segnalato lo stato di abbandono e la potenziale pericolosità di questi ponti risalente agli anni Sessanta. L'ANAS a sua volta aveva risposto che i viadotti sono monitorati, sarebbero stati fatti anche degli interventi manutentivi che, però, viste le condizioni, sono già ceduti. Ulteriori interventi di sistemazione sono previsti per il 2017.